Prima a filosofare nasce dall'idea che oggi in un mondo sempre più liquido, veloce e consumistico l'esercizio del pensiero è più che mai un'attività fondamentale per vivere in modo consapevole. Da qui l'idea anche provocatoria di rovesciare il detto tradizionale prima a vivere e poi filosofare. Il manuale è un racconto della filosofia che unisce chiarezza espositiva e rigore disciplinare per l'acquisizione di un lessico filosofico specifico. Abbiamo curato il linguaggio per evitare ogni forma di discriminazione e abbiamo dato centralità al pensiero delle donne nella storia, dai pazia alle filosofi illuministe, da Anna Arendt a Judith Butler. Si è deciso di mettere in evidenza le questioni filosofiche cruciali degli autori. Per questo motivo ad inizio capitolo abbiamo inserito delle domande per orientarsi che saranno presenti lungo tutto il testo e nelle sintesi finali in modo da offrire un percorso guidato e ben delineato dall'inizio alla fine. Prima filosofare è un manuale laboratorio, uno strumento per studiare ma anche per fare filosofia. Per questo motivo abbiamo deciso di partire con l'attualità delle domande filosofiche inserendo all'inizio di ogni unità dei veri e propri inneschi che affrontano temi culturali, sociali e politici. Inoltre abbiamo costruito delle rubriche per dare centralità al confronto tra filosofi in modo da valorizzare la filosofia come disciplina del dialogo e del rispetto e abbiamo deciso di dare anche centralità alle grandi questioni dell'educazione civica e dell'ambiente in modo tale da sviluppare lo spirito critico e in modo da formare una cittadinanza attiva. Tutti questi apparati didattici sono corredati da attività laboratoriali, discussioni guidate, compiti di realtà, lavori di gruppo e valorizzati da connessioni pluridisciplinari cinema, arte, letteratura, fumetti, musica per avvicinarsi alla cultura dei più giovani. Prima filosofare è arricchito da un apparato didattico pensato per sostenere i processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti. I brani antologici con l'analisi del testo, gli schemi, le mappe concettuali, gli esercizi e le attività di fine unità sono funzionali all'approfondimento e alla rielaborazione dei contenuti e all'acquisizione delle competenze per affrontare le interrogazioni, le verifiche e gli esami finali. Prima filosofare è anche un viaggio nella storia della filosofia attraverso video lezioni, video analisi dei testi e podcast. Si tratta di integrare i contenuti del manuale con apparati didattici multimediali facilmente fruibili dagli studenti attraverso QR code e dunque vicini alle nuove generazioni. L'obiettivo è quello di offrire degli strumenti di ripasso e di approfondimento dei contenuti presenti nel manuale. Fare filosofia a scuola può diventare una splendida opportunità per pensare e vivere meglio, per far coincidere il vivere e il filosofare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.